Sono contenti dunque Fajella e Scali che hanno conquistato la medaglia d'oro nel free dance, adesso siamo al free skating, senior maschile Karel Zelenka sta per partire, per iniziare la sua prova, siamo al campionato italiano figura artistico adesso, la categoria la ripeto è senior maschile. Karel Zelenka Karel Zelenka Nel campionato italiano figura artistico, ricordiamolo, pattinaggio in pratica libero, prima abbiamo visto invece la danza libera sui pattini, in gergo però viene chiamato questa prova, questa specialità free skating, senior maschile del campionato italiano figura artistico. E' Karel Zelenka che ci sta deliziando. Karel Zelenka Karel Zelenka Bravissimo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.